amici e amiche carissimi benvenuti o bentornati ad una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato all'approfondimento del immortale catechismo di san pio decimo la volta scorsa per chi sta seguendo o anche per chi non sta seguendo il ciclo di catechesi abbiamo terminato la lettura e il commento della sezione dedicata ai dieci comandamenti concludendo appunto avvertendo del fatto che adesso sarebbe cominciata una seconda la seconda diciamo sezione dedicata alla vita morale riguardante appunto i cinque percetti generali della chiesa e poi i capitoli dedicati alle virtù prima teologali e poi cardinali prima teologali e poi cardinali e poi con una rassegna conclusiva riguardanti le beatitudini evangeliche dopo aver enumerato anche i sette vizi capitali quindi è una disamina sintetica questo perché ricordiamo sempre che il catechismo i catechismi sono sempre impostati sulla triplice versante no che poi ciò che dobbiamo fare per vivere secondo dio credere le verità di fede che gesù ci ha riperato e la santa chiesa ci insegna quindi la fede la prima parte del catechismo e quindi il credo questo lo abbiamo da tempo con completato osservare i comandamenti di dio e della chiesa seconda parte del catechismo e poi vivere in grazia cioè frequentare i sacramenti e essere assidui e costanti nella preghiera terza parte di tutti quanti i catechismi andiamo a vedere i precetti generali della chiesa che forse riusciamo a affrontare tutti in una sola puntata vediamo perché io non sono mai in grado di prevedere gli sviluppi contingenti ecco delle delle piccole conversazioni condivise allora siamo al capo secondo come introduzione c'è un passaggio paolino della prima lettera a timoteo capitolo 4 versetto 25 queste cose medita in queste sta fisso affinché si manifesto tutti il tuo avanzamento ecco un altro modo con cui si rievoca quel bellissimo salmo 119 che è una lunga lungo elogio su chi medita e mette in pratica la legge del signore no 213 che cosa sono i precetti generali della chiesa cosa sono questi 5 per 7 genere della chiesa i precetti generali della chiesa sono leggi con le quali essa applicando i comandamenti di dio prescrive ai fedeli alcuni atti di religioni e determinate astinenze quindi il senso è chiaro no ci sono alcune esortazioni che come vedremo sono generali della legge di dio la legge di dio esorta anzi prescrive per esempio la santificazione del soggiorno nell'antico testamento era ben determinata il nuovo testamento non è così specificatamente precisata c'è bisogno di qualcuno che allora lo precisi invito al digiuno e alla penitenza è costante nella sacra scrittura ma come dove quando ecco e cose simili no loro però potrebbe poi chiedersi ma la chiesa può fare questa cosa da dove gli deriva l'autorità di fare leggi e precetti che peraltro poi obbligano in coscienza no la risposta è che la chiesa ha l'autorità di fare leggi e precetti perché l'ha ricevuta nella persona degli apostoli da gesù cristo l'uomo dio e perciò chi disubbidisce alla chiesa disubbidisce a dio medesimo di quanto stabilito precettivamente da chi ha l'autorità di farlo ordinariamente obbliga in coscienza e come verrà detto nel nel numero seguente a proposito di chi può far legge e precetti dove si specifica sono chiaramente i papa e i vescovi si aggiunge che gesù cristo disse chi ascolta voi ascolta me chi disprezza voi disprezza me quindi è chiaro che da sempre c'è stata l'esercizio di questa funzione ovviamente il papa può fare leggi vincolanti per tutta la chiesa il vescovo ha una sua potestà legislativa propria e ordinaria nella diocesi il vescovo può stabilire delle leggi che siano vincolanti per la propria diocesi per quanto riguarda la cura generale della chiesa è chiaro che ci vuole un concilio ecumenico i quali concili ecumenici come penso che tutti sappiano non soltanto definiscono verità di fede ma possono anche per esempio sancire delle norme disciplinari cosiddette le norme disciplinari appunto sono leggi non è una norma di diritto divino e quindi non è neanche un dogma di fede ma in forza dell'autorità apostolica fino a quando la legge è in vigore occorre obbedirvi e obbedirvi sotto pena di peccato perché le leggi ecclesiastiche non è che sono pi consigli sono vincolanti che purtroppo come noi sappiamo in questi tempi molto distanti dal catechismo di San Pio X non sono mancate non mancano purtroppo circostanze in cui tutto questo diventa non troppo semplice problematico specialmente quando provoca conflitti di coscienza è chiaro che sono orizzonti, prospettivo, scenari che arrivano assolutamente assolutamente atipici ai tempi del catechismo di San Pio X ma anche fino a qualche tempo fa e quindi vabbè poi mano a mano che si affrontano le tematiche eventualmente avremo modo di specificare qualche dettaglio primo precetto che ci ordina il primo precetto di udire la messa la domenica e le altre feste comandate il primo precetto appunto udire la messa la domenica e le altre feste comandate ci ordina di assistere devolutamente in talità dei giorni alla Santa Messa quindi quali sono le feste comandate attualmente di feste comandate nel calendario romano ce ne sono sei oltre alle 52 domeniche dentro le quali c'è anche chiaramente la domenica di Pasqua quindi tra le feste comandate le numero ma tolgo la festa di Pasqua perché la festa di Pasqua capita sempre di domenica quindi fa parte delle 52 domeniche sapete che ogni anno c'ha 52 domeniche adesso non fa i conti lo presta a capire perché perché sono 365 giorni sempre qualche volta 366 52 per 7 fa 364 quindi 52 domeniche ci sono sempre le altre feste comandate andiamo un po' in ordine a partire dal facciamo il calendario liturgico nuovo quindi dall'avvento cioè l'immacolata concezione il Natale la solennità di Maria Santissima Madre di Dio 1 gennaio l'Epifania 6 gennaio dopodiché c'è l'assunzione 15 di agosto e la solennità di ogni santi 1 novembre quindi un buon cattolico deve sentirsi 58 messe l'anno obbligatoriamente chi non ascolta la messa nelle giorni di precetto fa peccato grave chi attenzione senza avere impedimento non ascolta la messa nelle giorni di precetto e chi non dà modo ai suoi dipendenti di ascoltarla fa peccato grave e non adempia il comandamento divino di santificare le feste quindi ci deve essere un vero impedimento impedimento è qualcosa che ti impedisce in maniera peraltro o invincibile oppure non proprio invincibile ma che costerebbe uno sforzo diciamo fuori dell'ordinario superare l'impedimento in qual caso si è scusati da peccato ma in assenza di impedimento quindi la mancanza alla santa messa oppure il non consentire a un dipendente la partecipazione alla santa messa non scusa da peccato mortale peccato grave ovviamente grave significa che sapete no abbiamo già fatto l'istensione tra peccato grave e mortale che di per sé questa è una cosa grave quindi se commessa con piena avvertenza e deliberato consenso è ipso fatto un peccato mortale e c'è il caso dei dipendenti perché specialmente oggi poi arrivere un ciaccia diremmo qualcosa quando ci arriverà appunto all'obbligo dell'astinenza dal lavoro nei giorni di festa una persona per esempio nell'attuale situazione ecclesiale storico sociale si considerano per esempio attività di utilità sociale di servizi di ristorazione per cui se uno ristorante può stare aperto di domenica non è proprio pacifica al 100% perché ci sono alcuni autori che sono un pochino più rigidi che negano che che un ristorante sia così necessario in maniera tale che si debba che debba rimanere aperto purtroppo su alcune questioni figlioli miei cari è difficile eh a divenire a una certezza non deve stupire questo perché ci sono sempre stati perché sulle questioni morali se uno studia un pochino anche la morale classica eh anche su alcune questioni eh gli autori spesso erano eh come dire divisi chi diceva non è peccato chi diceva non è peccato veniale chi diceva non è peccato veniale non è peccato mortale eh non è tanto semplice ecco perché al di fuori di quelle tipologie che sono sicure certe e non sono così tante poi si apre una gamma in cui no per cui io poi dirò la mia piccola diciamo così opinione che però non è detto che sia quella eh vera al 100% eh perché si tratta di cose eh opinabili alla messa la domenica bisogna parteciparsi questo non ci piove questo qui quindi perché è sempre bene avere almeno chiare le cose essenziali e c'è il ristorante bene se c'è il ristorante il tuo dipendente devi devi dargli la possibilità almeno di partecipare alla messa altrimenti per chi morta al messa c'è un bar la stessa cosa eh oggi purtroppo come sapete ci sono delle delle situazioni in cui sicuramente come dire si pongono in essere dei dei lavori non voluti dalla legge di Dio per esempio tenere aperto un centro commerciale eh che è proprio insomma la negazione di ciò che Dio vuole perché lo shopping domenicale non è certamente una cosa gradita a Dio però immaginiamo un dipendente che non ha possibilità di trovare un lavoro alternativo e che ci sono io questo l'ho saputo dall'esperienza nel senso dal colloquio con le anie perché mi viene a chiedere ma io sto al supermercato posso lavorare di domenica dico dipende se ti costringono sotto pena di licenziamento non hai scelta fermo restando che il tuo diritto è dovere anche avere uno spazio per santificare la festa con la messa domenicale però ci sono altre situazioni e qui è chiaro che bisogna fare un discedimento caso per caso in cui il dipendente non è obbligato e se non lo fa non è al rischio di perdere il lavoro ma semplicemente chi lavora di domenica guadagna di più e questo è uno dei punti discriminanti perché se tu lavorassi di domenica come dipendente per guadagnare di più non saresti esente da colpa anche perché c'è il proverbio delle nostre nonne che lavora un giorno di festa esce dalla finestra sentiremo se ci arriviamo alcune espressioni per esempio anche dell'omelia del santo curato d'arsa al riguardo numero 217 chi non ascolta la messa nei giorni di precetto fa peccato no abbiamo già visto scusate numero 218 e andiamo già al secondo precetto che cosa proibisce il secondo precetto con le parole non mangiare carne nel venerdì e negli altri giorni proibiti oggi questo precetto si enuncia con le parole santificare i giorni di penitenza e di digiuno prescritti dalla chiesa il secondo precetto con le parole non mangiare carne nel venerdì e negli altri giorni proibiti ci proibisce di mangiare carne nel venerdì giorno della passione e morte di Gesù Cristo e in alcuni giorni di digiuno adesso a quei tempi al tempo del carlismo di San Pio X i giorni di digiuno erano molto più numerosi rispetto ad oggi oggi sono rimasti due perché i giorni di digiuno non lo dico perché non tutti lo sanno il digiuno bisogna farlo secondo la legge della chiesa sono rimasti solo il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo i digiuni di digiuno e il digiuno canonico per adempio del digiuno canonico ci sono delle condizioni minime intanto ripeto cioè che sono innanzitutto cucina oltre modo leggera quindi si possono fare una colazione e uno dei due pasti in maniera leggera e poi l'altro pasto o proprio leggerissimo quindi ridotto quasi al nulla e questa è proprio la condizione minima oppure se uno fa un pochino di pane e di acqua o lo salta proprio meglio però ecco il digiuno canonico non è proprio il non mangiare nulla ma è ridurre notevolmente la quantità di cibo in modo tale da sentire gli effetti della fame poi ci sono certamente altre forme di digiuno ora attenzione però perché per esempio secondo l'attuale legge canonica della chiesa il digiuno obbliga le persone che hanno tra 18 e 60 anni di età e non sono impedite da motivi seri di salute capito non è un motivo di di salute se faccio il digiuno mi viene un pochino di mal di testa no non è un motivo serio di 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 salute quindi vuol dire che se uno non digiuna in quei giorni e ha un'età compresa da 18 a 60 anni pecca pecca formalmente se sa che dovrebbe digiunare e non digiuna pecca materialmente se non lo sa e non lo fa e come tutti quanti i peccati materiali una volta che uno ne prende coscienza è sempre bene confessarli perché si può darsi che io non lo sapevo ma c'è sempre la domanda delle domande cosa avevo fatto a suo tempo per informarmi e per saperlo che è tutta quanta la tematica delle condizioni perché l'ignoranza scusa secondo Sant'Omaso solo quando è incolpevole cioè quando la persona l'ignoranza non è dovuta la colpa si sostanzia nella negligenza cioè è stato negligente nell'informarsi e quindi è sempre meglio una volta che una persona magari si converte un po' bene diciamo così oppure approfondisce il cammino e quindi si rende conto di tante cose se dovesse aver mancato dirlo in confessione anche se non avesse peccato gravemente perché non ne era a conoscenza è meglio dirlo perché se ragazzi ripeto se l'ignoranza non fosse completamente incolpevole non si sarebbe scusati da da peccato no? ora che cosa ordina il secondo precetto con le parole di digiunare nei giorni per quanto riguarda il venerdì c'è l'astinenza dalle carni l'astinenza dalle carni devo dire ovviamente secondo è tuttora obbligatoria la conferenza episcopale italiana in cui a seguito dei come dire dei cambi di disciplina conciliari e post conciliari post conciliari ha la facoltà di stabilire alcune norme e ha come dire stabilito che mentre i digiuni di quaresima sono stretti quindi non possono essere si devono fare digiuno dell'astinenza dalle carni punto e basta gli altri venerdì dell'anno si c'è l'astinenza dalle carni quindi c'è ma il fedele può sostituirla con un'altra opera penitenziale quindi se una persona è capace di ricordarsi tutti i venerdì e di dire vabbè anziché fare la stienza dalle carni oggi non guardo la televisione non bevo il caffè cioè faccio un'altra penitenza un'altra opera un'altra mortificazione ovviamente dei sensi si può fare io mi permetto sempre di suggerire dico tu un tanto non mangiare la carne d'accordo poi se ti trovessi a trovare un giorno che ne so c'è un invito ad un momento dove non puoi dire di no e non è possibile sottrarsi a questo cambierà con un'altra penitenza però sapete siccome la natura umana tende a bisogno di ripetizioni fissi di atti per abituarsi a fare qualcosa a mio modesto avviso fermo restando che si può fare diversamente però è più opportuno e prudente mettersi in testa che il venerdì la carne non si mangia punto e basta così almeno un gesto di mortificazione e di penitenza lo si offre al Signore uno potrebbe dire ma perché la carne perché qualcuno ce lo chiede per un motivo empirico se uno mangia il pesce fosse anche pesce costoso certo non è il caso di mangiare un giorno di restrenza dalle carne che ne so gli scampi quando costano 70 euro al chilo non è proprio il caso non è perché si perde poi il senso anche religioso del digiuno però se anche te mangi gli scampi che costano 70 euro al chilo dopo un po' c'è fame perché il pesce è un cibo comunque leggero la carne è proprio quel classico cibo che quando te lo mangi ti mangi nel piatto di pasta a ragù e poi una bistecca ti senti sazio vai tranquillamente avanti fino alla sera perché la carne è sostanziosa ti riempie quindi l'astinenza della carne non è un digiuno ma è una sorta di piccolissimo digiuno perché tu comunque non avverti quel senso di sazietà piena che ordinariamente insomma perché questo accada ci vuole un cibo sostanzioso questo è il senso di quest'opera penitenziale non è proprio ma la carne costa una cosa ma il pesce costa più della carne quindi mangio la carne e dico vabbè obiezione che potrebbe anche avere qualche fondamento e mangia delle ova cioè non è che devi mangiare forza pesce capito oppure c'è pesce pesce insomma no ci stanno dei pesci molto molto economici che sono abbastanza alla portata no ci stanno quelli con quelli congelati insomma ecco si possono fare tante cose no allora il 219 il coso ordine il secondo precetto con le parole di giunare nei giorni prescritti è il secondo precetto dice di osservare il digiuno ecclesiastico nella quaresima che adesso insomma in alcuni giorni dell'avvento anche adesso non ci sono più nelle quattro tempora non ci sono più e in alcune vigile non ci sono più io ricordo che Giovanni Paolo II scrisse un documentino non mi ricordo il titolo ma ricordo di averlo letto mi si perdoni purtroppo l'impossibilità di dare riferimento ma credo che con una ricerca tematica online si potrebbe trovare dove disse lamentò che la disciplina della chiesa era diventata troppo troppo mitigata rispetto al passato però ahimè non non fece nulla personalmente per magari ripristinare qualcuna di queste belle cose e quindi adesso di fatto c'è una disciplina veramente ridotta al minimo e almeno quello amici cari cerchiamo cerchiamo di starci no a che obbliga il digiuno ecclesiastico dice il digiuno ecclesiastico obbliga dall'assinenza da determinati cibi e da altri pasti oltre il pranzo è consentita però vedete una seconda riflessione leggera ok quindi chiaro il termine no quindi astinenza da determinati cibi cibi troppo pesanti e da altri pasti oltre il pranzo però è consentita una seconda riflessione leggera quindi l'importante è alleggerire notevolmente il carico se uno salta un pasto o lo fa pane e acqua meglio chi è obbligato al digiuno ecclesiastico allora al digiuno ecclesiastico a quei tempi è obbligato ogni fedele dai 21 anni compiuti ai 60 adesso sono i 18 se non ne sia scusato per infermità per lavori gravosi o per altra giusta ragione chiaramente quando ricorrono uno di queste cose allora tutte quante queste leggi ecclesiastiche da tutti quanti i 5 precetti della chiesa essendo leggi della chiesa può dispensare da esse chi ha l'autorità di farle ecco e qui devo formare questi sono incontri catechetici no il parroco non ha la facoltà di fare leggi se non quelle piccole cose quelle piccole indicazioni che dà per il governo della parrocchia a differenza del vescovo però il parroco ha la facoltà di dispensarle solo il parroco non il padre spirituale e non un sacerdote che parroco non sia il parroco ha la facoltà proprio ordinaria di dispensare dalle leggi ecclesiastiche che significa significa che se io ho un fedele che per esempio una domenica teme di avere difficoltà di adempiere il precetto festivo perché anche il precetto festivo cioè andare a messa la domenica il comandamento dice ricordare di santificare le feste di per sé quindi io potrei anche santificare la festa in teoria non andando a messa la domenica la chiesa è intervenuta dicendo no no la modalità ordinaria per santificare la festa è la partecipazione alla messa però quindi l'applicare la messa alla santificazione della domenica è stato un atto che è stato fatto con legge ecclesiastica per cui è dispensabile quindi se una persona se un fedele avesse difficoltà lo si può dispensare magari dicendo si dispenso tu vai a messa per un giorno della settimana poi il dispensatore può dare delle modalità alternative oppure una qualche opera sostitutiva di quella che viene stata dispensata dal digiuno se una persona diceva io però mercoledì le cene la fa un viaggio e c'è pure che ho fatto contro un pano mi può dare dalla dispensa sì però fa il digiuno venerdì prossimo non sarebbe prescritto che venerdì di guardia sia solo l'astinenza per dire no per far capire un po' queste cose dice perché la chiesa ci impone astinenza e digiuni numero 222 la chiesa ci impone in conformità dell'esempio della dottrina di Gesù Cristo astinenza e digiuni guardate per penitenza dei peccati mortificazione della gola e delle passioni e per altre necessità particolari ecco per esempio quando c'erano i digiuni delle quattro tempore c'erano anche le celebrazioni delle quattro tempore sapete cosa erano no? le quattro tempore vengono quattro tempore sono i quattro tempi dell'anno cioè le quattro stagioni inverno autunno inverno prima verra l'estate ora è chiaro che un tempo anche oggi è così erano particolarmente collegati quando non c'era ancora stata la rivoluzione industriale per esempio c'era fondamentalmente una forma di vita generalizzata legata ai ritmi della terra e ai frutti della terra no? ecco e allora il digiuno ha altre finalità particolari perché si faceva? per necessità particolari crediamo al Signore accompagniamo la nostra preghiera con il digiuno perché benedica questa stagione e possiamo avere i frutti della terra tipici di questa stagione adesso purtroppo queste cose non ci sono più si sono un pochino smarrite ed è male c'è anche la penitenza dei peccati perché molto difficilmente qualche fedele perché la legge fa la chiesa fa delle leggi perché è difficile voi immaginate se non ci fosse il precetto della messa domenicale già adesso non ci va più nessuno nonostante il precetto ma se non ci fosse sarebbero ancora di meno no? cioè chi è che tra i fedeli diciamo così comuni normali interiorizza l'importanza del digiuno e lo fa di propria spontanea volontà senza esservi obbligato non sono tanti noi siamo un miliardo e duecentosessanta milioni di persone nel mondo di cattolice quindi quanta gente fa il digiuno volontariamente? quasi nessuno allora la chiesa però è perché il digiuno bisogna farlo il digiuno è l'astinenza perché? perché dobbiamo fare penitenza dei peccati i peccati rimessi alla colpa devono essere spiati quanto alla pena e le opere di penitenza sono appunto espiazione c'è anche un altro aspetto la mortificazione della gola e delle passioni la mortificazione della gola amici miei cari è una cosa importante l'ho già detto tante volte sono quelle classiche cose a cui oggi non ci fa caso più nessuno quindi specialmente oggi nella società del benessere dell'opulenza ma noi non possiamo mangiare senza freni senza limiti e non perché diceva divento obeso ma tanto a meno non me ne importa niente della linea quindi anzi vedi che bravo che sono disprezzo questa cosa qua disprezzo la linea e accetto di essere oversize sembrerebbe un discorso anche un pochino però non funziona così non funziona così perché se tu diventi oversize a meno che una volta ricevuto un commento non ci siano delle malattie accertate che non so la tiroide è sballata o altre cose che non faccio il medico e che non conoscono quindi se una persona ha problemi malattie non sto parlando per lei ma se una persona non ha problemi noi la corona dobbiamo imparare a dominarla perché il curato d'Arze diceva che a tavola comincia la vita del corpo ma finisce quella dell'anima e peraltro le complicazioni adesso non è che uno fa il salutista noi abbiamo a cuore la salvezza delle anime in primis però 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 se io il corpo non lo domino non lo governo e lo dobbiamo governare questo è un principio classico dell'ascesi sono io che decido non è che io mi faccio trascinare cioè la nostra dignità di Dio anche il fatto che il corpo è il tempio dello Spirito Santo ci obbliga a prenderlo in mano comando io quindi sono io che decido quanto mangio a che ora mangio come mangio che digiuni faccio che non faccio eccetera eccetera perché non mi faccio dominare dalla gola e dalle passioni ora questo tu non lo farai mai se ogni tanto non prendi o non ti metti chiappi e digiuni cioè devi sapere dire di no le anime impegnate su questa cosa qui nel corso dell'anno perché non c'è soltanto la guarisi ma sono tante occasioni c'è l'avvento c'è il mese di maggio prendono rinunciano a certe cose non vuol dire che a quella cosa devi rinunciarci per tutta la vita ma se tu per un periodo dici per questo periodo niente alcol se una persona non è che alcolizzato ma beve mezzo bicchiere di vino a pasto ogni tanto si fa 25 cc o 33 di birra o cose di questo genere perché perché le prendo con rinunciano non c'è niente di male non è peccato assumerle specialmente se uno le prende con rinunciamento di grazie se conosce la dina volontà si fa pure un bel giro d'accordo per quel sapore particolare che il signore gli concedi di vivere attraverso quella cosa ma tu devi sempre avere il controllo non puoi essere dipendente cioè io lo gusto per amore del signore ma so dire di no me ne privo per amore di dio per spirito di penitenza e per mortificare la cuore e le passioni perché non mi faccio dominare da questa cosa è molto difficile in questa nostra condizione quindi è una virtù oggettiva e capite che chi impara a fare questo cresce da un punto di vista ascetico perché noi a tavola c'è almeno tre volte al giorno almeno in occidente ringraziamo il signore perché siamo fortunati ma è lì che facciamo capite con la gola ordinariamente si fanno tutti quanti i peccati veniali a meno che certamente uno non si strafoga o veramente mangia troppo spesso dei cibi iperbolicamente costosi che sono uno schiaffo alla povertà oppure butta le cose butta gli avanzi all'immondizio questi sono tutti catechesi un pochino arcaiche dicevo sempre tu prendi una tovaglia bianca se tu su una tovaglia bianca ci fai ci rovesci una caraffa di sugo o di vino rosso magari e se fai una chiazza grossa così la prendi la togli la tovaglia la devi andare a portare in tintoria quello è il peccato mortale invece che cos'è il peccato veniale non è la grande patacca ma avete visto o no? uno usa la tovaglia magari ha fatto gli spaghetti e i commensali che mangiano gli spaghetti qualche schizzo lo fanno partire e quello schizzo si fa a depositare sulla tovaglia certo uno schizzetto piccolo non è detto che si veda o che si veda bene uno può andare due tre quattro ma immagina se su quella tovaglia ci sono cento schizzi la devi cambiare forza perché per quanto siano tutti quanti puntini piccoli e poi se no e quindi dobbiamo la terza motivazione è che non bisogna andare in sovrappeso né tantomeno diventare obesi perché tutto questo non fa bene alla salute ripeto noi non siamo salutisti però abbiamo il dovere grave da un punto di vista morale di conservare il nostro corpo in buona salute senza essere esauriti perché perché noi dobbiamo stare qui sul pianeta terra per conoscere amare e servire Dio come abbiamo imparato nelle parti precedenti del catechismo fino a quando lui vuole perché se io non tratto con rispetto e santamente il mio corpo potrei morire prima del tempo fissato da Dio perché la data di morte noi ce l'abbiamo scritta in paradiso ma attenzione come tutte le cose che il nostro signore ha scritto in paradiso dicevo questa mattina durante una catechesi sulla divina volontà che bisogna sempre stare attenti a eventuali travisamenti il destino non esiste quindi non c'è un programma infallibile e ineluttabile cioè Dio ha deciso tu Leonardo devi morire a 80 anni qualunque cosa faccio arriverò a 80 anni no perché non sarei realmente libero perché se io mi butto dalla finestra oggi ha avuto 80 anni e non ci arriva manco per niente e lo posso fare ok quindi il controllo su queste cose è importantissimo perché se io comincio a mettere peso io ne ho esperienza amici miei cari cioè allora c'è chi quando comincia ad andare oltre gli si spaccano le ginocchia quindi protesi alle ginocchia poi dice è volontà di Dio ah mi ha preso questa croce è volontà di Dio siamo sicuri che quella è volontà di Dio intenzionale sicuramente no figlioli miei cari perché quando mi capita una disgrazia che io me la sono andata a cercare attribuire questa cosa alla volontà di Dio intenzionale certo che volontà di Dio permissiva sicuro perché non si muove voglia che Dio non voglia ma intenzionale qualcun altro a causa del sudor appeso deve farsi poi la protesi all'anca e qualcun altro muore perché il cuore comincia ad avere problemi quando ci va certamente in situazioni contingenti no scusate non contingenti in situazioni significative quindi non 5 kg di sovrappeso ma 20 30 40 50 quindi questo è un aspetto importante e purtroppo la disciplina mitigata della chiesa non aiuta le persone perché anche chi non fa troppo caso a queste cose a volte ci può essere anche qualcuno dove non dovrebbe stare che non fa troppo caso a queste cose certamente se la disciplina della chiesa si mitica troppo non riceve questo aiuto perché l'uomo se non lo metti al chiodo prima che interiorizza l'importanza di una cosa e la fa volontariamente fa tempo morisse salvo evidentemente alcune sporadiche e sicuramente rare quindi in proporzione alla massa mondiale dei cattolici non so dare una percentuale ma è bassa 1 su 100 io sarei contentissimo se fossero 1 su 100 ma non credo che arriviamo a questi a questi numeri no quindi la gola e le passioni vanno mortificate adesso purtroppo non ci abbiamo l'aiuto dei digiuni imposti dalla legge della chiesa e quindi inventiamoci qualcosa non possiamo lì agire come se niente fosse e andare allo stato brado tutti i giorni terzo precetto che ci ordina il terzo precetto confersarsi almeno una volta all'anno e comunicarsi almeno a Pasqua ci ordina di accostarci alla penitenza almeno una volta all'anno e allocheresti almeno nel tempo di Pasqua queste sono domande e risposte dove la risposta non è altro che la domanda senza punto interrogativo quindi allora qui c'è il problema della della penitenza e dell'eucaristia nel senso del fare la comunione allora diciamo un pochino di per fare la comunione bisogna essere in grazia di Dio numero uno quindi quando una persona sospetta o teme di non essere in grazia di Dio o ha motivo di tenere che uno lo sia deve astenersi dalla comunione e fare via la confessione quando è che la confessione è necessaria ecco perché una confessione si confesserai e ti comunicherai almeno a Pasqua perché se tu diciamo ordinariamente non è che stai molto per la quale siccome a Pasqua la Chiesa ti obbliga a comunicarti eh perché se tu sei un figlio della Chiesa la comunione di Pasqua si deve fare e se tu non l'hai fatto il progetto Pasquale lo devi confessare nella confessione generale perché non è un optional la comunione è obbligatoria Pasqua e in punto di morte nella forma del viatico queste sono le uniche due comunioni obbligatorie oltre a quella del sacerdote celebrante che non può non fare la comunione lui no ma gli altri si che possono non farla ora è chiaro che ti vuoi confessare una volta l'anno e fare la comunione soltanto a Pasqua libere scelte adempio i progetti generali della Chiesa è chiaro che chi farà la comunione tutte le domeniche deve vigerare che stia in grazia quindi se dovesse commettere un peccato grave deve accostarsi alla confessione prima di comunicarsi e anche se non commette peccati gravi questa è una raccomandazione dei maestri di spirito che fai di confessare una volta l'anno non è molto prudente anche perché spesse volte noi non siamo in grado di fare un buon discernimento potremmo aver commesso dei peccati che agli occhi di Dio sono anche significativi e noi non ce ne abbiamo coscienza alcuna quindi è bene con una certa frequenza diciamo che il minimo che viene indicato una volta al mese per chi fa la comunione regolarmente chi vuole diventare santo deve intensificare una volta ogni otto giorni accostarsi a questo sacramento perché altrimenti le Eucaristie oltre che a non essere fruttuose potrebbero essere anche sacrilege dice perché la Chiesa imponendo di confessarsi e di comunicarsi una volta all'anno aggiunge la parola almeno 224 vedete qui come come c'è l'imbeccata dice la Chiesa aggiunge la parola almeno per ricordarsi l'utilità anzi il bisogno di ricevere spesso come suo desiderio questi sacramenti il santo curato d'Arsa quando faceva le pratiche sui precetti della Chiesa quando arrivava a questo precetto si metteva sempre a piangere dice ma ti pare che io debba andare a dire di comunicarsi almeno a Pasqua lui era innamorato dell'Eucaristia ma come fa una persona a comunicarsi soltanto a Pasqua se è stato battezzato e ha un tesoro così grande come l'Eucaristia no? quindi almeno è per dirti figlio mio almeno questo proprio al di sotto di questo metti a repentaglio la salvezza della tua anima però dico almeno perché magari ci andassi tutte le domeniche ma magari ci andassi tutti i giorni ma magari ti confessassi in otto ogni otto giorni no? ecco quarto precetto sovvenire a necessità della Chiesa contribuendo secondo le leggi o le usanze questo è rimasto più o meno simile anche nella formulazione il quarto precetto sovvenire alla necessità della Chiesa contribuendo secondo le leggi o le usanze ci ordina di fare le offerte stabilite dall'autorità o dall'uso per il conveniente esercizio del culto e per l'onesto sostentamento dei ministri di Dio allora qui in che cosa consiste? oggi dopo il concordato dell'85 sappiamo bene che lo Stato destina l'otto per mille dei contribuenti che lo firmano alla Chiesa Cattolica quindi uno dei modi non l'unico per adempiere questo comandamento questo precetto scusate della Chiesa è questo poi c'è un altro le questue domenicali il motivo per cui la domenica si passa con la cosiddetta questo all'offertorio è proprio questo per dare la possibilità al fedele di adempiere a questo precetto con una piccola media o grande elemosina che va da un centesimo a un milione di euro ovviamente tramite assegno non ci lasciate le carte di credito perché le patrocchie non c'hanno i poss perdonatemi la battuta ma le offerte generalmente oggi ve lo dico dalla parte di là sono sempre molto molto esigue e ci si barca per andare in qualche modo avanti con l'aiuto del del Signore no quindi questi sono i modi come dire ordinari se mi posso permettere essendo sacerdote quando si riceve un sacramento è consuetudine ed è anche un gesto come dire di galateo ecclesiastico lasciare un'offerta allora i sacramenti non si comprano d'accordo per cui non bisogna mettere come dire tariffe ecco però capite no parlo a cuore aperto io spero almeno di essermi fatto un punto di onore dato che me ne dicono ancora a quanto pare di tutti i colori insomma in giro sono abbastanza abituato però che chiedo i soldi o che sono attaccato ai soldi almeno come parroco poi come singolo speriamo che il Signore mi aiuti mi sembrerebbe fuori luogo ecco però tanto per far capire cioè se tu vai a far battezzare tuo figlio gli viene data per esempio una candelina una vestina bianca che quella non è che dalla parrocchia sono piovute dal cielo o te le passa la curia no viene il rappresentante e ti compri 20 vestine del battesimo che costano a seconda dei modelli 3 euro 5 euro una per dire le candele non sono mandate non ce ne portano gli angeli magari ma sono comprate e hanno un costo se tu dentro la chiesa c'è la luce e quella luce c'ha un costo se hai trovato la chiesa pulita a meno che non ci siano le volontarie ci sono quasi sempre insomma o il team che si occupa di queste cose e devi pagare l'impresa di pulizia costa ok ecco il cielo pasquale che si accende durante i battesimi costa e costa pure abbastanza un bel cielo pasquale ecco quindi capite se tu vai a fare il battesimo e dici arrivederci io credo che il parroco fa bene ed è comunque un atto gradito a stare zitto e dice arrivederci è andata così ma chi l'ha fatto non ha fatto una cosa fatta bene vi assicuro che a me è capitato questo ma io per esempio mi trovo in una chiesa d'arte io non ho mai chiesto un centesimo per i matrimoni non lo faccio so che alcuni che alcuni che alcuni che alcuni vostri chiedono dice questa è una chiesa d'arte se ti dovi a sposare qui l'offerta che devi lasciare è specificata in questa montata non si può fare ma a me non sembra una cosa opportuna né che dia un buon messaggio certamente perché succedono queste cose succedono queste cose perché c'è chi va a fare il matrimonio addirittura un matrimonio e poi dice arrivederci faccio un altro esempio le ostie con cui ci facciamo la comunione non piovono dal cielo si comprano accendo la candela il lumino che si usa per accendere la candela si compra lo compra la parrocchia qui se tu accendi il lumino ah ma io non lascio neanche l'offerta non soltanto che fai un gesto scortesi ma come dire di fatto non è una grande cifra perché un lumino a seconda delle fattezze può costare 6 centesimi 8 centesimi 12 centesimi però ti sei preso 12 centesimi dalla parrocchia dico queste cose perché io mi ricordo quando stavo dall'altra parte mi chiedevo sempre tante cose no perché chi non sta dentro si chiede tante cose ok così come per chiedere un'intenzione di 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 messa ordinariamente bisogna lasciare un'offerta perché a parte il valore spirituale cioè che quella è un'elemosina che suffraga ulteriormente il defunto o l'intenzione per cui la messa è chiesta poi ci sono altre due motivazioni primo che l'offerta della messa è l'unica fonte di tra virgolette è l'unica quantità di denaro che un sacerdote perfino se ha un incarico offesiale che quindi è parroco può trattenere e usarla a proprio arbitrio compreso il proprio sostentamento cioè un sacerdote che non ha l'incarico di parroco per esempio è studente d'accordo è che cosa campa secondo voi cioè un prete non campa di aria quello mangia si spera non troppo e non troppo spesso qualche qualche vestito ecclesiastico se lo deve comprare la talare non ce la compra il vescovo oppure il papa te la compri tu così come il clergyman così come un paio di scarpe non troppo e non troppo spesso un prete che non è parroco non ha altra fonte di reddito proprio che le offerte della messa ed è per questo che la CEA ha stabilito che l'offerta ordinaria minima per chiedere un'intenzione di messa è di 10 euro la seconda motivazione però è che un sacerdote solo se ha accettato un'offerta per un'intenzione di messa è obbligato a celebrare quella messa attenzione con intenzione singola non cumulata entro un anno da quando ha ricevuto l'offerta e se dopo un anno non è riuscito a farlo deve chiedere la soddisfazione di quell'intenzione personalmente a un altro prete girando l'offerta ricevuta io c'è un sacco di gente lo dico che mi chiedono una catterbo una marea di intenzioni di messe io dico sempre io qualcuna ne posso assolvere personalmente perché sono anche parruco quindi ho la intenzione dei fedeli quindi non posso ecco ma siccome c'è questa prassi oggi che a me mi dispiace dirlo ma è una prassi illegittima è uno dei tanti abusi che stanno in giro vedete con tutti quanti questi abusi che stanno in giro purtroppo chi ci va di mezzo poi è la legge ordinaria della chiesa che ne viene screditata quindi io spesso le messe le giro però raccomando alle persone dico guarda che se io devo girare io poi li conosco i miei se sono tutti studenti miei amici cioè vi posso raccontare che ci sono alcuni che gli giravano in continuazione cicli di messe gregoriane che mi hanno ringraziato con le lacrime agli occhi dice padre io vengo tantinocesi povere mi hanno mandato in Germania a studiare il diritto senza neanche averci una casa io pago 500 euro al mese di affitto per la casa vado a fare servizio il fine settimana nelle parrocchie mi danno 100 euro a settimana eh ma 500 o meno 400 fa 100 quindi invece avanzano altri 100 euro se tu a quello gli mandi un ciclo di messe gregoriane sono altri 300 euro quindi paga l'affitto e con 200 euro campa bollette perché cioè chi la paga la bolletta mangiare non troppo non troppo spesso bere capite no quindi così attraverso questo precetto facciamo anche un pochino di di scuola no lungi dalla chiesa l'attaccamento al denaro e peggio ancora la simonia quindi andare a far pagare i sacramenti che sono peccati gravissimi però bisogna anche essere consapevoli da parte dei fedeli che ci stanno delle situazioni ci sono dei costi per esempio di manutenzione ordinaria da qualche parte quelli devono uscire escono sempre io potrei scriverci un libro sulla provvidenza che veramente straordinaria che ho sempre visto perché il nostro signore è largo ecco attraverso però anche la collaborazione e la cooperazione dei fedeli vediamo l'ultimissimo precetto che adesso praticamente è diventato quasi obsoleto non celebrare solennemente la nostra nei tempi proibriti ecco il precetto con cui la chiesa proibisce la messa con la benedizione degli sposi dalla prima domenica di avvento al santo natale dal mercoledì della domenica di pasco questa cosa c'è ancora ma è rimasta diciamo così la proibizione della celebrazione solenne adesso nel novus urdo che cosa intende con solenne diventa complicato quello che il re perché questa norma qui perché capite che le nozze appunto primo sono un sacramento che esprime l'unione di Cristo con la chiesa è un sacramento gioioso no è una festa la nozze allora festa poi generalmente eseguita da un banchetto è un cazzotto dentro un occhio che tu in un tempo penitenziale come l'avvento e la quaresima celebri la festa pensate che ad esempio adesso alle messe dei funerali si dice sempre gloria ma durante l'avvento e durante la quaresima tutti sanno che gloria non si dice no neanche la domenica e che fa i bagordi fa il banchetto mentre questo è un tempo quindi è chiaro che in caso di necessità o altre queste non sono dogmi di fede se si può evitare certamente è meglio e con questo oggi amici possiamo fermarci e siamo riusciti come speravo e come prevedevo a esordire l'argomento precetti generali della chiesa con qualche piccolo dettaglio che spero possa essere stato utile a chi ha ascoltato Dio vi benedica e la Madonna sempre vi protenga